Benvenuti a Dotti e Ghiotti, il nuovo appuntamento dell'Università della Cucina Mediterranea. Dotti e Ghiotti nasce dall'esigenza di tornare ad una cucina semplice, quella quotidiana, quella alla portata di tutti. E' per questo motivo che vogliamo partire proprio dalla centralità, dall'elemento fondamentale di una cucina sana e gustosa, ossia la conoscenza dell'ingrediente, della materia prima. Per questo motivo Dotti e Ghiotti vuole unire una parte conoscitiva ed informativa del prodotto alimentare con gli esperti UCMED ad una parte pratica in cui gli allievi potranno partecipare, mani in pasta, alla realizzazione di ricette gustose ed originali. A disposizione degli allievi una docente d'eccezione che con tutta la sua simpatia, tutto il brio, ma anche tutta la professionalità, li aiuterà e li guiderà nella realizzazione di questi piatti. Silvia Cella. Dotti e Ghiotti quindi vi aspetta in sede dell'Università della Cucina Mediterranea presso il Grand Hotel Conca Park di Sorrento tutti martedì e giovedì a partire dal 25 giugno dalle 10.30 alle 13.30. Potrete comunque trovare tutte le informazioni sui corsi sul nostro sito www.ucmed.it o sulla nostra pagina fan su Facebook. Si partirà dalle zucchine, dalla melanzane al pomodoro, lavoreremo insieme la pasta fresca, faremo una differenza tra la pasta fresca e la pasta secca. Ma il punto centrale sarà sempre lo stesso, la conoscenza del prodotto, della materia prima, come scegliere al momento dell'acquisto, come cucinarlo, come riconoscere un prodotto di qualità da un prodotto scadente. Quindi sempre insieme informazione e pratica, tutto comunque in una lezione divertente per passare una mattinata in compagnia e soprattutto anche per degustare in compagnia i piatti preparati. Vi aspetto a partire dal 25 giugno all'Università della Cucina Mediterranea. Ciao!